La chiave per sedurre una donna in palestra, come d'altronde in altri contesti, è essere naturali, non essere forzati. Ad esempio, quando l'hai conosciuta da un po', puoi iniziare a fare delle battute carine, spiritose, mi raccomando, non offensive, su determinati argomenti di cui si possono parlare in palestra. Cioè il segreto è quello di catturare la sua attenzione senza sbavare dietro, senza fare i morti di effetti e allo stesso tempo lasciarle un bel ricordo di te, così che lei poi andrà a casa e ti penserà che le tue azioni devono dimostrare di non essere premeditate, ma di essere spontanee.